Ciao, sono Elena di Biflex Italia. Oggi vediamo insieme il termoadesivo riflettente BF Reflex, la sua composizione e la sua applicazione. Il film BF Reflex è la serie Biflex con effetto riflettente, necessario in quei casi in cui si vuole dare freddo di rifrangenza ai capi. È prodotto mescolando allo strato di poliuretano delle microsfere di vetro, che permettono la rifrazione della luce quando il film è colpito da una fonte luminosa. Che tessuti possiamo personalizzare con BF Reflex? Questo specifico film è utilizzato nel caso in cui vogliamo rendere visibile un indumento in situazioni di scarsa luminosità. Solitamente viene utilizzato su abbigliamento da lavoro, ad esempio abbiamo personalizzato il classico gilet ad alta visibilità. Abbigliamento sportivo, ad esempio quando usciamo a correre la sera abbiamo bisogno di un indumento che si veda al buio. Qui possiamo vedere la personalizzazione sulla schiena e anche sulle maniche. E poi possiamo utilizzare il BF Reflex anche sul nylon o ai tessuti cosiddetti difficili. Noi abbiamo personalizzato le scarpe. Possiamo vedere qui ad esempio la personalizzazione, come è riuscita e terrà nel tempo. BF Reflex è di facile lavorazione ed è disponibile sia nella versione da taglio che per la stampa digitale. I soli 140 micron di spessore e la sua leggera elasticità lo rendono gradevole al tatto. È facile da spellicolare e il suo supporto adesivo permette il riposizionamento dei dettagli. Di fatti così possiamo tagliare fino a mezzo centimetro. Un suggerimento importante da seguire quando lavorate con il film BF Reflex è l'utilizzo della lama nel plotter da taglio. Dovete utilizzare quella a 60 gradi. Ora spellicoliamo. Impostiamo la pressa a 140 gradi. Pettiamo la t-shirt sotto la pressa. In questo caso personalizziamo il retro della t-shirt. Posizioniamo la nostra grafica. 140 gradi 10 secondi. Rimuoviamo il liner a caldo. Ecco il risultato. Come potete vedere l'effetto rifrangente è perfetto. E grazie all'alta qualità del film segue perfettamente il tessuto mantenendo una mano perfettamente morbida. Provate l'alta qualità dei nostri film. Grazie per aver visto questo video e alla prossima. Ciao!